Non c'è dubbio che la storia recente di Malpensa sia contrassegnata da fasi certamente difficili. Il grabbing dell'Italia, ma soprattutto direi le grandi crisi economiche mondiali e le grandi crisi dell'industria del trasporto aereo. Noi ne stiamo attraversando un'altra, dopo quella altrettanto pesante che ha contrassegnato il periodo tra l'estate 2008 e la fine del 2009. Credo che anzi, proprio in una fase così difficile sui mercati mondiali ed europei, un investimento come quello di Livingston rappresenti un bel segnale, un segnale importante. Se permettete, magari congiunto con un altrettanto importante segnale che arriva dalla società di gestione, che l'anno scorso ha fatto investimenti infrastrutturali per oltre 100 milioni di euro. E che quest'anno intende farne ancora di più. Credo che l'imprenditoria sana, l'imprenditoria che crede al mercato debba investire proprio nei momenti in cui il mercato è in difficoltà. Quando nascono nuove e grandi infrastrutture, le precedenti infrastrutture o vengono chiuse. Questo non è stato possibile 14 anni fa, nonostante l'avessero chiesto con forza sia alla società di gestione, sia sia che all'epoca all'Italia. E non è stato possibile per una concomitanza di cause, una delle quali, chiarissima, è stata la miopia della classe politica milanese e lombarda.